Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Lecce, ancora una tragedia. Nelle scorse ore ha perso la vita un operaio di 57 anni, dipendente di un'azienda di fabbricazione di infissi e cancelli che stava lavorando a un lucernario di un capannone nella zona industriale di Lecce. E' precipitato da un'altezza circa di 8 metri per ragioni ancora in causa d'accertamento. E' l'ennesima vittima sul lavoro, una mattanza inaccettabile. L'ultimo report mensile dell'E-Nail fa riferimento ai dati di luglio. Nei primi sette mesi sono stati 7 decessi sul lavoro in provincia di Lecce, 4 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Aumentano anche gli infortuni denunciati, ben 2.655 dall'inizio dell'anno al 31 luglio, 161 in più rispetto al 2023. E purtroppo in questa statistica sfuggono centinaia di infortuni denunciati dai lavoratori, capitati nei mesi di agosto ed in questa prima parte di settembre. Esprimo a nome di tutta la CGL di Lecce dolore per l'ennesima vittima sul lavoro e vicinanza ai familiari del lavoratore, dicono il segretario generale della CGL Lecce, Tommaso Moscara, e la segretaria provinciale con delega alla sicurezza nei luoghi di lavoro, Fiorella Fischetti. Non spetta a noi ricostruire la dinamica dell'accaduto. Di sicuro, nella maggior parte degli infortuni mortali, latitano le misure di sicurezza e prevenzione, che restano una causa incomprensibile ed inaccettabile di questo fenomeno. Ogni giorno ci sono tre lavoratori italiani che escono da casa per lavorare, senza più fare ritorno alle proprie famiglie. Servono misure urgenti e concrete per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Come parti sociali continuano, possiamo intervenire soprattutto sulla cultura della prevenzione, ma non basta. È necessario un investimento urgente da parte del governo sull'attività ispettiva e sui controlli. La patente appunti per le imprese, per esempio, va estesa ad ogni settore e non può bastare un corso di formazione per tornare alla normalità.